Unboxing 1 Bene amici di AndreaMille.com Oggi unboxing di questo pacco incredibile Cosa ci sarà dentro? Un disco? Un vestito? La guardia di finanza? Andiamo a scoprirlo insieme Bene, prendiamo le forbici Voi non lo sapete, ma io so già che cosa c'è qua dentro Surprise, surprise Vediamo, forbici totalmente inutili ma Aspetta, ok, facciamo finta che servano Perché riesco anche a farmi male, vedrai Ah, ecco infatti, porca trotta Siamo al top Ed eccolo Della carta Bellissimo Sono veramente commosso Non me l'aspettavo Ebbene sì ragazzi Ho comprato un pacco di Amazon Bellissimo È fatto di cartone Ha questa simpatica freccia Che mi significa Che da qui a qui Parte il bellissimo sorriso di un cliente soddisfatto Ma no che scherzavo Non ho ordinato un pacco di Amazon Andiamo a vedere che cosa c'è dentro Quanto è bella Cioè Ebbene sì Mi è arrivato il nuovo disco di Billie Eilish Cioè allora capite che io apro il pacco E mi trovo subito questo Cioè Botta così Di colpo così Cioè proprio sto viso Mettetemi un retro Almeno me l'aspettavo Mamma mia che meraviglia No è bellissimo È stupendo È stupendo Raga ma di che parliamo Di cosa stiamo parlando Allora questa è ovviamente la copertina Questo è il retro Molto semplice Semplicissimo Beh a questo punto Non ci resta caprirlo Questa volta No Raga Momento sacro Questa copertina è incredibile Ma cioè In foto non rende così Cioè A parte che devo staccare questo Dal vivo fidatevi che la copertina è Boh Atomica E poi la foto ha una definizione pazzesca Cioè è mega definita È stu Cioè Raga È stupenda Guardate che meraviglia Stupenda Veramente non me lo sarei mai aspettato Costa un abuso Ma è veramente Veramente Bello Ben fatto Apriamolo Ok Lo apro anch'io per la prima volta Lì ci siete voi Ma dai raga Che figo No vabbè Ma che figata è Ma Cioè Raga Tutti i testi Su sta foto Che E Cioè Dai No vabbè È stupendo Cioè È veramente Un'opera d'arte Bellissimo Prendetelo Prendetelo E Ve lo devo far vedere questo Io pensavo di Trovarmi la La solita carta Che avvolge il vinile E invece Guardate Ma di cosa parliamo Io mi appendo tutto Dai Ma Cioè il vinile È l'ultima cosa Veramente Ok c'è anche quello Però giuro Volà Lato B Side B E ovviamente Cambia anche La faccenda Qua C'è un lato Cosiddetto A Vediamo Quale colpo al cuore Mi prende per l'altra parte La No Dall'altra parte A sto punto Lo voglio vedere In diretta Con voi Allora Vi poso un attimo qui Raga ma che meraviglia È Ma c'è Boh Cioè Sono Senza parole Senza parole A lato C Pensate La fantasia americana Dove si spinge E lato D Quindi abbiamo A B C D È un oggetto Veramente Stupendo Cioè Compratelo Prendetelo Dovete prenderlo Non comprate il cd Non compratelo Costa veramente Tanto di più Rispetto al cd 40 euro su amazon Se non 45 Ma li vale Tutti È Un oggetto Stupendo Bellissimo Cioè Cartone sì Però zero carta Di quella la fine Brutta Cioè È mega Ci ho sputato sopra Perdonami amore Mega premium Proprio come Come si suol dire Se potete Prendetelo Perché Se siete fan di Billie Eilish Non potete Non avere questo Vinile Perché È abusivo Questo È finalmente Il mio Vinile La mia copia Di Happier Than Ever E a questo punto Io vi rimando Al video di domani Perché domani Esce la recensione Completa Qui su questo canale Sarà una recensione Veramente Molto lunga Perché È un disco Che mi è piaciuto Che mi è piaciuto E secondo me Che ha tantissime Cose da dire Quindi ci vediamo Domani Sempre qui Iscrivetevi Se questo video Un po' troppo emotivo Vi è piaciuto Seguitemi domani E fatemi sapere ovviamente Se avete ascoltato il disco Se l'avete comprato Se avete comprato Il vinile Cosa ne pensate E io vi rimando A domani Per parlarne tutti insieme Perché C'è troppo da dire Grande Billy Ti amo Sposami Nel dubbio I'm sorry Maybe you don't know Italian Marry me Please I'm a good guy I'm a good guy Da